Guito da Ramon Valle, si chiamava La Conga de Medianoche e probabilmente introduce molto bene l'ospite di Fahrenheit, con il quale noi vorremmo, prima ancora di presentarvelo, inquadrare un aspetto della violenza sulle donne. Naturalmente il libro non parla solo di questo, anzi questa è una parte del libro, però c'è più di un punto dove viene affrontata. Vi abbiamo già ricordato all'inizio di questo pomeriggio e poi nel corso della giornata, Radio 3 lo ha ricordato più volte, che oggi è una giornata particolare, One Billion Rising, un miliardo di donne che subiscono violenza nel mondo. Questa è l'iniziativa da cui è partita Eve Ensler, la scrittrice, che ha poi pensato e concepito questa manifestazione di flash mob, ovvero di danza contemporanea in ogni parte del mondo. Ecco, però c'è un tipo di violenza sulle donne di cui si parla meno, è quella che riguarda soprattutto le donne africane e le donne che si prostituiscono nel nostro paese, che vengono configurate un po' come vittime di serie B. E se non esiste un numero esatto di donne uccise in Italia, perché non esiste nessun istituto ufficiale di monitoraggio che conti davvero le vittime di quello che viene chiamato femminicidio, per quello che riguarda le prostitute esiste ancora meno, perché non sempre le cronache riferiscono di questi delitti. Allora, ci sono anche delle storie di prostituzione che vengono raccontate nel reportaggio dell'ospite di Farenette, che si chiama Castelvolturno. Il sottotitolo è Reportaggio sulla mafia africana, esce per in Audi, lo ha scritto Sergio Nazzaro. Buon pomeriggio e benvenuto. Grazie. Allora, Sergio Nazzaro è tante cose, giornalista, reporter, documentarista, scrittore, in questo caso testimone e portavoce dei racconti degli altri, cioè si fa veramente voce di altre persone che gli hanno affidato le loro storie. Fra le molte storie, ne racconteremo diverse, ce n'è una, che è quella di Monica. Monica è una donna che appena incontra il narratore, gli mostra i segni di due coltellate, una coltellata al fianco, una coltellata alla schiena. Ha 24 anni, voleva fare la parrucchiera e quello che si trova a fare è a gestire in un luogo imprecisato, che si trova appunto dalle parti di Castelvolturno, una casa di prostituzione. Esatto, questo è il grande dramma di molte donne africane che da sfruttate diventano a loro volto sfruttatrici e Monica rappresenta questa sorta di vendetta, tra virgolette, delle donne, in quasi un cammino segnato dalla violenza. Mi disse, devi avere un uomo che ti protegge e se no poi non puoi sopravvivere in questo mondo. Allora da sfruttata, poi lei ha fatto questa casa, ormai sono una sorta di bordelli solo per africani, almeno sono più protette e insieme ad altre amiche lavora e fa lavorare. C'è una frase che viene pronunciata da Monica che è una frase che farà brividire, a un certo punto dice non ci sono sempre scelte in questa vita. Da dove viene Monica o tante donne come lei perché lei si occupa anche molto di tratte, di viaggi in questo caso, di persone che devono pagare il debito che hanno contratto durante il viaggio per venire in Italia e che a volte non riescono a mettere a rischio la propria stessa vita per riuscire a farlo. Esatto, non ci sono scelte nella vita perché è una frase durissima, ma è una frase valida non solo per Monica, ma per le donne bianche al sud. È una frase valida per tutta una sorta di meridione, questo delta del volturno. Quando dicono la vita la si può cambiare, non è vero. Qualche giorno fa una donna di colore è stata bruciata viva perché ha difeso l'amica, il fidanzato, un altro ragazzo di colore, per vendetta, l'ha aggredita e l'ha bruciata. Ma negli stessi giorni nel napoletano un marito ha investito e poi ha dato fuoco a una donna bianca. Quando la carne è bruciata... È morta poche ore fa, però, quella donna. Quando la carne è bruciata, di che colore ha? Quindi, Monica, che proviene dall'Africa ed è una migrante, a un certo punto io quello che cerco di rappresentare non è soltanto un'indagine sulle mafie, ma un punto di vista al femminile, una sorta di delta in cui si sta costituendo una nuova società. E c'è tutto questo dolore che, soprattutto quando si riversa sulle donne e sui bambini, diventa intollerabile. Tra l'altro, lei, è vero che questo, che è un reportage narrativo su quello che avviene nel delta, adesso ci arriveremo, è vero che lo sguardo che lei ci offre, Sergio Nezzaro, è uno sguardo molto femminile. Tra l'altro, proprio nella prima pagina, lei comincia con la storia di un'altra donna che muore, Francesca Manzi, 25 anni, laureata in economia del turismo, lavorava come barista. Il 9 settembre del 2010 muore nel fango. Esatto, una storia, come sappiamo, la famosa alluvione di Atrani, è caduta un po' di pioggia, un po' più del normale, in questo quadretto di liaco, che è la costiera amalfitana, una ragazza, una donna, esce la mattina, mi sembra la fine di coloro i quali vivono al sud. Si esce la mattina per poi morire e questa ragazza è stata, purtroppo, ripescata alle olie. Se ciò accade, perché non accade per volere di Dio, ma perché i canali erano struiti da rifiuti, scaldabagni e quant'altro, nella cornice della costiera amalfitana che è nota in tutto il mondo, le altre coste del sud, che cosa può succedere? Quello che lei ci offre in assoluto in Castelvolturno, Sergio Nazzaro, è una convinzione. Le cose non sono mai così semplici quando si tratta di capire che cosa avviene. Che cosa avviene, per esempio, a Castelvolturno lei dà un dato, che è un dato molto semplice, però colpisce 200 chilometri dal centro di Roma. Eppure tutto cambia, perché quello che lei dice, andando a 200 chilometri dal centro di Roma, si trova la bellezza dell'inferno. Io sono contrario a questo termine. Non c'è nessuna bellezza nell'inferno, c'è soltanto lo squallore. Io sono molto ironico in quella parte, perché si parla molto di bellezza nell'inferno. Non c'è nessunissima bellezza nella follia, nella disperazione quotidiana, nell'inferno quotidiano. C'è lo slow fish, c'è lo slow food. Io mi sono autocreato il termine slow reportage, per entrare nei dettagli, per restituire soprattutto a ognuno il proprio mestiere, mi piace dire. I poliziotti fanno i poliziotti, i finanzieri fanno i finanzieri, i giudici fanno i giudici. Ognuno ha la sua storia da raccontare e rimettere per questo puzzle, ricomporre e cercare di fare un reportage, come si faceva alla vecchia maniera, al vecchio stile, andando piano, senza gridare, gli aggettivi li teniamo da parte. Un buon reportage, sia pure slow, ha comunque anche i numeri e lei di numeri ne fornisce. Per esempio ci dice, in questo caso riferendosi al dossier 2011 di Caritas Migrantes, che sono 4 milioni e mezzo gli stranieri presenti in Italia, che un milione circa sono africani e che gli africani sono i maggior migranti presenti sia in Italia che in Campania. E' anche quella disgiunzione sia in Italia che colpisce, visto che le parole lei giustamente le pesa. Sì, questo è un altro dato. Da una parte fa piacere, perché una volta intervistando dei ragazzi, diciamo, dei ragazzi erano un po' la manovalanza criminale africana, però mi dissero, anche se con un fare aggressivo, mi dissero, qui ci troviamo bene, il napoletano è buono, allora c'è questa preferenza per il meridione. Poi c'è il grande contrasto, perché abbiamo una grandissima comunità dove c'è una fortissima crisi economica, non c'è industria, cioè è più spiegabile una forte presenza a Torino, nella Brianza, ed è qui che nasce questo viaggio. Ecco, perché lei se la fa questa domanda, perché tutte queste persone, tra l'altro è impossibile calcolare gli irregolari, perché qui ci siamo basati sui numeri di immigrati regolari, perché il delta del Volturno come meta se qui non c'è nulla? Lei se lo chiede, che risposta si dà? Molto semplice, perché è opera dell'uomo bianco, come dico io, cioè il passaparola, e perché Cassel Volturno, i suoi dintorni, Pesco Pagano, Mondragone, è il celebre villaggio Coppola, sono state oggetto della più grande speculazione edilizia europea, cioè tonnellate di cemento riversato direttamente in spiaggia per avere la casa al mare, dove tutto era abusivo, a un certo punto ci sono migliaia e migliaia di case vuote, è lì che iniziano ad arrivare i primi africani ed è lì che vivono, pagano affitto chiaramente, che crediamo che sono lì irregolari, non hanno il contratto, ma l'uomo bianco va a riscuotere 200 euro minimo a testa mentre ne mette 20 nella stessa villettina che ormai non riuscirebbe neanche a vendere a un euro. E c'è un indotto di decine di milioni di euro di affitti in nero in tutta questa zona grigia, Cassel Volturno, Pineta Mare, Villaggio, Coppola, che si sviluppa. Ed ecco che lì Cassel Volturno pian piano diventa il punto di riferimento, i migranti, no? Düsseldorf piuttosto che Sydney, Nueva York, come la chiamavano i nostri anziani, si ritrovano. È un punto dove anche poter scomparire, perché una persona di colore a Brescia piuttosto che a Bergamo è più difficile, perché lì ci sono delle regole. Da noi è più facile scomparire. Certe volte però si arriva alla ribalta delle cronache, non solo di quelle. Tutto il mondo, o perlomeno tutto il mondo dell'informazione, forse si sarebbe detto tutta la società civile fino a un po' di tempo fa, ha guardato con attenzione, con costernazione, ponendosi dei dubbi alla rivolta di Cassel Volturno del 2008. La ci mette in guardia Sergio Nazaro e dice che tutto comincia da lontano, ovvero? Ovvero che la presenza, innanzitutto specifichiamolo, sempre e comunque, c'è una vastissima comunità e ci sono i fetenti, chiamiamoli così, la malvagità è sia bianca che nera e chi soffre sia bianco che nera. È qui che si annulla ogni forma di razzismo e divisione. Non c'è colore della pelle. Quindi perciò è anche un'indagine su questo oggetto, la mafia africana, che molti credono esista soltanto lo spacciatore di colore. No, c'è una rete organizzata e molto vasta. E in Campania, con la camorra, è l'unico luogo dove si fondono queste due criminalità. Si combattono, si alleano, si fronteggiano. Non succede in Sicilia, in Calabria e in Puglia. Si parte da lontano. Perché? Perché nel 2008, quando accade la strage, ci sono stati titoloni assurdi. Le teorie più allucinanti. Io scrissi subito è un atto di terrorismo. La verità, perciò sullo reportage, sono stati condannati per terrorismo. I camorristi volevano una tangente di 50 euro sulle partite, diciamo 50, ma volevano taglieggiare i neri che spacciavano. Da lì l'atto di terrore. E qualcuno si è meravigliato pure. Oh mio Dio, una strage. Dimentichi, che nel 1990 il clan Latore a Pesco Pagano compie un'altra strage. Sette morti e cinque feriti, sempre a danno di africani. Perché? Perché mentre il gruppo dei Casalesi aveva deciso che la droga la potevano gestire gli africani, prendevano tutti i rischi, erano sulla strada, la prostituzione, così il faro della polizia era distratto. Quella strage invece perché il clan Latore a Mondragone rivendicava, la famosa strage di Pesco Pagano, il territorio per se stessi. All'epoca è interessante che si parla di tanzaniani, nigeriani, se negani. Quando i tanzaniani sono entrati soltanto recentemente. Radici che partono quindi dagli anni 80. Non stupiamoci. Tra l'altro lei scrive una cosa che sembra passata inosservata in quella che definisce una difficile matassa. sono stati uccisi solo ghanesi? Esatto. E questo cosa ci dovrebbe far pensare? Non è che cosa ci dovrebbe far pensare. Potrebbe essere quasi una sorta di complotto nigeriani contro Ghanesi. No, no. Dico, la cosa interessante è che appena dopo si pensavano Togo, Mali, di diverse nazionalità africane. Oggi proprio parlavo con un ragazzo africano e mi diceva, voi italiani pensate all'Africa con tutt'uno, è un continente. La cosa interessante, i testimoni, non Sergio Nazari, i testimoni che bisogna andare a ascoltare, l'assessore e la polizia, loro tramite il passaparola capirono immediatamente che appartenevano tutti quanti alla stessa nazionalità. Perché? Perché è semplice. Quando si entra in Italia io do come generalità la nazione che ha una guerra civile, che ha un disagio sociale, perché così posso ottenere il mio visto d'ingresso. Attenzione a chi ci ascolta, non è una furbata per venirci a rubare il lavoro, è per sopravvivere. Ed è la cosa interessante che quando si parlava appena dopo la strage, sono di qui, sono di là, erano tutti del Gana. I documenti non raccontano sempre una storia vera. Lei parla nel libro, tanto per tornare di nuovo a questo intreccio, usiamo la parola matassa, perché mi sembra la parola più giusta quella che lei ha scelto per definirlo, fra appunto mafie italiane e mafia africana. Lei infila tre capitoli che si chiamano quote nere, quote bianche, quote extracomunitarie. Perché? Perché sembra un discorso complesso, lo è anche, ma basta avere soltanto la pazienza o di leggersi il mio libro, e qui facciamo uno spot, ma no, o di stare ad ascoltare. Cioè nel senso che nel 2008 si è creduto che i bianchi erano contro i neri. Niente di più falso. I neri sanno di essere ospiti, non aspirano al potere politico, loro sono qui per il denaro. È interessante però perché non sempre bianco e nero, le zone grigie prevalgono e quindi ci sono commissioni. C'è un momento in cui i bianchi sparano i neri, c'è un momento in cui una parte di un gruppo vicino ai casalese addirittura va armi in pugna a difendere uno spacciatore di colore. Quindi ci sono africani che fanno da broker trafficanti nigeriani per i gruppi napoletani. Quindi è questa liquidità che questo accade perché la camorra è liquida. Il grande male, il grande male. Per me le mafie più complesse e più pericolose sono la mafia e l'andrangheta strutturate. Non che la camorra non sia pericolosa ma la camorra è violenta. Poi abbiamo visto che appena si accende un faro come è stato per il gruppo dei carassalisi vengono distrutti. Oggi abbiamo i capi clan che hanno 20-22 anni. Aveva forse ragione Buscetta quando parlavo io dei camorristi non parlo sono dei buffoni che assumono anche i vigili urbani. E per definire per cercare di capire qualche cosa di più su quello che è soprattutto nelle sue diramazioni in Italia la mafia africana? La mafia africana e forse mi hanno rimproverato un termine improprio perché una delle principali è la mafia nigeriana. Poi ci stanno la mafia ganese cioè ognuno si organizza è chiaro che una forte presenza è nigeriana. Torniamo a ripetere non significa che tutti i nigeriani sono criminali quando dicono gli italiani sono mafiosi perché poi questo è un argomento delicato che si va da un'altra a razzista o non è razzista no Gli ascoltatori di Firenet sono tantissimi accorti su questo punto Esattamente quindi la mafia africana che cos'è? La differenza fondamentale con quella cinesi o con quella russa è che la mafia africana diventa mafia in Italia e di questo ne parlano le carte della DDA di Napoli come il prezioso lavoro di uno dei magistrati più importanti Giovanni Conso la mafia diventa gli africani costituiscono la mafia in Italia Perché? E come? Perché? Perché loro sono dei clan organizzati gruppi criminali ma i caratteri di mafiosità li mutuano quando sono in Italia Per questo lei parla di matassa Esatto Senta i due punti ci sarebbero tantissime cose ovviamente da prendere in esame in un libro particolarissimo perché ripeto è un reportage ma è anche uno slow reportage giustamente è anche una serie di narrazioni a cui Sergio Nazaro presta voce né più nemmeno ci sono pagine bellissime dolentissime di di una donna morente di fatto di AIDS di droga di tante cose insomma che davvero è un racconto di vita anche narrativamente molto molto forte droga e prostituzione l'una è legata all'altra e questi sono i due punti principali credo su cui le mafie la famosa matassa di cui parlavamo poco fa va poi a fondarsi? Assolutamente sì perché l'uomo bianco e mi scuserete i termini ma ha voglia di puttane di colore di coca e qualcuno rifornisce il mercato punto o crediamo che la mafia africana si nutre di se stesso offre dei servizi all'uomo bianco lei prima abbiamo accennato insieme prima la storia di Monica Monica che è una madame questo è con lei che gestisce una casa di prostituzione Monica però tiene a ribadire nell'incontro che lei ha avuto con lei che con lei le ragazze sono sicure perché quello che avviene sulla strada dove queste ragazze vengono gettate è qualcosa di spaventoso la strada è sporca la strada è pericolosa è quello che ripete Monica e cerca in un certo senso di fare da filtro diciamo ecco sulla prostituzione che cosa ha scoperto durante il suo reportage Sergio Mazzaro ma io fondamentalmente non ho scoperto non ho scoperto nulla ho soltanto guardato ancora con più chiarezza il dolore cioè vedere queste ragazze in mezzo alla strada al freddo lontane dal proprio paese senza una persona che possa dirsi amica dove si può fermare il primo camminista il primo la prima persona e fai sesso a pagamento non sai se è un violento un sadico o uno che ha voglia di parlare c'è una solitudine c'è una follia quante donne di colore sono impazzite la prostituzione è veramente selvaggia esatto quello che fa Monica a un certo punto sembra l'ideale esatto è un paradosso perché queste ragazze hanno un tetto quando piove mangiano le persone che entrano possono essere virgolette controllate e non stanno più in mezzo alla strada ormai c'è stata anche qui un'evoluzione come i primi nigeriani ganesi hanno compreso che da schiavi potevano diventare i padroni così le donne si stanno prendendo il proprio business tra le loro mani che può sembrare assurdo ma è semplicemente la verità a volte però continuano a morire o a essere vittime di stupro lei tra le molte cose che lei racconta Sergio Nazzaro di cui è testimone che restituisce al lettore c'è la storia delle confraternite le confraternite che si fondano proprio con uno stupro collettivo ovvero ovvero è un rito di iniziazione in Africa quantunque sconcertante perché sono confraternite che per essere accolte esatto prove di forza uno stupro collettivo su una donna le confraternite un discorso molto interessante ma non siamo qui a farlo che partono dall'Africa facciamolo nel senso che quando si dice chi sono questi gruppi criminali perché poi si parla di black axe hanno dei nomi perché non è affascinante questa mafia perché essendo liquida come la chiamo io complessa nomi lunghissimi complessi soprannomi da queste confraternite si muovono e si richiamano a queste confraternite ma poi diventano proprio gruppi criminali possono riferirsi a una confraternita più o meno nota in Nigeria piuttosto che da qualche altra parte ma alla fine sono come le cellule d'Al Qaeda la mafia virgolette africana in Italia cioè io e lei vogliamo commerciare in droga andiamo da un gruppo compriamo la droga iniziamo come mi racconta anche il finanziere 100 grammi 200 grammi mezzo chilo faccio prostituire mia sorella un'amica di mia sorella quindi è un crimine che si autoalimenta non solo si autoalimenta perché questo esce fuori con molta chiarezza dal suo reportage ma assume le caratteristiche lei l'ha già detto però è bene ribadirlo quella che è una confraternita che si fonda anche su questi riti bestiali di iniziazione si trasferisce un frammento di quella confraternita in Italia tra l'altro ci sono altre ritualità che lei descrive atroci durante i viaggi dove vengono uccise donne vengono uccisi bambini arriva in Italia e incontra le confraternite delle nostre mafie quindi quello che esce fuori in questa liquidità sono dei nuovi ibridi in un certo senso esattamente ed è questo il territorio che ho cercato di esplorare questo delta del volturno perché è il primo esperimento sociale in Italia io volevo puntualizzare anche questo perché quando si parla anche di riti voodoo e ci tengo a sottolineare oggi in Italia si celebra il primo processo in assoluto per sacrifici umani è quello che racconto nel secondo capitolo su quella traversata che quando la notizia uscì erano tre righe ma attenzione c'è successo in acque internazionali dovremo dimostrarlo fino in fondo però in Italia abbiamo il primo processo per sacrifici umani quando abbiamo una cultura millenaria perché i riti voodoo quant'altro noi crediamo a Vannamarchi all'otto o quant'altro si incontrano ed è qui la potente commissione nel bene e nel male perché questa è la parte del male i criminali ma è altrettanto interessante la parte virgolette del bene i volontari bianchi neri che reagiscono quelli sul campo quelli che non vanno mai nei salotti tv a predicare ma stanno alla mattina alla sera a lavorare come la storia di Anna Cecere questa ragazza bianca che fa la sartoria made in Castelvolturno è una bellissima storia quella vuole accennarla almeno in due parole perché è una delle storie che danno speranza che le racconta nel suo libro semplicissima questa ragazza ha aperto un laboratorio di sartoria africana io ci metto la moda il taglio italiano voi ci mettete le stoffe africane che sono bellissime con lei lavorano due sarte africane pagate una di queste è anche la mamma di Mary una bambina di 7 anni uccise però cambiano le cose cambiano non a chiacchiere con i fatti le borse vengono vendute i vestiti sono bellissimi le altre cooperative sociali sui territori danno una mano fanno una rete ed ecco che bianchi e neri ribaltano il quadro Sergio Nazaro io ancora una cosa da chiederle perché riflettevo che tutto quello che lei ha raccontato va a coprire non pochi vuoti che ci sono stati dopo il 2008 perché questa è una costante ne parliamo spesso non solo qui a fare avvengono cose avvengono cose che magari tengono forse nel 2008 per 3-4 giorni le pagine dei giornali oggi basta un giorno solo perché poi c'è sempre qualcos'altro che occupa la prima e poi non se ne è parlato più e questo anche questo vuoto che l'ha spinta a raccontare questa storia queste storie il vuoto è la voglia di approfondire nel silenzio con i dettagli ciò che ci manca probabilmente in Italia è la memoria continuare a ricordare anche ciò che fa male ricordare il dolore anche quando non ci saranno più le persone che possono ricordarlo o quando anche lo stesso dolore non sopravviverà a se stesso noi continuiamo a ricordare e quindi non solo il mio lavoro è cercare di andare lentamente per comprendere i fenomeni intorno a noi abbiamo da una parte la bellezza di questa informazione la rete che è imprescindibile dall'altra parte leggere approfondire comprendere partendo da un punto di vista io sono ignorante Castelvolturno il reportage sulla mafia africana è uscito per Inaudi e copre appunto molte delle nostre ignoranze io ringrazio molto Sergio Nazaro per essere stato con noi